Allora, qual è la città che vorresti e i murazzi che vorresti? Io vorrei tanto una spiaggia ai murazzi, mi piacerebbe tantissimo per... Nei murazzi che vorrei convivono tutte le... tutte le età, tutte le persone che vogliono frequentarli lo possono fare. Penso. Potrebbero. Potrebbero. Dovrebbero poterlo fare, insomma. Dovrebbero poterlo fare. Ma questa cosa, secondo te, è accessibile con le iniziative del comune di dare l'ingestione a privati le arcate o dovrebbero occuparsi un'altra verità? Beh, sicuramente a me non è mai piaciuta l'idea di dare l'ingestione a privati le cose. Abbiamo anche visto che se le cose le fanno magari le associazioni o qualche tipo di altre cose vengono fuori cose carine. E chiaramente un progetto di due mesi, per quanto possa funzionare bene, non è una soluzione. Certo. Persino a birra, persino a dirra, a farsi... due... A farsi due chiacchiere e venire a vedere com'è... Una sessione di da Pirunan da Vora e un dibattito da noi. Un dibattito di là, esatto. E vedere come va. Prima di parlare, ne ho molti gli amici che hanno scritto tante cazzate perché sono passati sopra e non c'è più la movida. Depende da cosa l'intendi per movì. Grazie a tutti.